La peggio, però la parte dopo della strofa, io l'avevo preso un po' da come l'avevi fatto a te che me l'ha piaciuta. Di Molle. Ma tutto si? Tutto si. Ecco perché la pulizia da te. Si ma io la faccio cosi. Andiamo a fare solo l'inizio. Aspetta, vediamo. Eh no perché allora a questo punto non ce la fai. Non ti fa cambiare la tuta. Ma quella non la puoi scusare. Roxx e brrr. No perché questa e in me. Eh ma tu come la fai qui? Non lo so, la faccio qui. Ah vuoi quella chitarra là? Ah, la feglia ma chitarra! Perché lì c'è un blocco quindi non posso scappare. non ho capito, non ho capito no, non ho capito allora non ho capito ma non ho capito no il cao no io, cioè siccome era perché l'avevi fatta a te? non è te l'avevi fatto questo quando non sei che l'ho fatto guardate che mi ha dato quella chitarra famosa di cravotte io l'avevi presa te l'avevi fatta così ma quella lì del chorus che poi invece andava bene era l'unica cosa che non andava bene sono quattro accordi, non ti facevi? a parte il secondo che era un po' sbagliato il primo era questo che è un po' sbagliato poi il resto era come l'hai fatto a te è pari pari come l'hai fatto a te si si tra l'altro il primo accordo è questo cioè il resto io non uso il certo ma cioè io ho presa l'avevi fatto a te mi meraviglio che si ma ma poi il resto è là ma lo facciamo così però quello non è andato per la per il canto quindi quindi il primo è come l'hai fatto a te poi vabbè ma qual è la posizione? questo è il mio bemolle quindi no no la posizione è questa ok e adesso come la facciamo? in italiano sai come si dice quello che stai dicendo tu? che sono un idiota ma io quello che mi diceva sono un idiota che mi sono complicato la vita per niente ma io perché secondo me infatti abbiamo cominciato a rearrangiarlo perché mi devo ricordare il basso eh questo ok che che speciale puoi partire anche con la citarra lì non è che dal basso ok ok oh Oh, cazzo, ce l'avevi niente, eh? Oh, cazzo, ce l'avevi niente, eh? Backstreet, c'è il backstreet, c'è il dimenticato, si riesce a prenderlo, quindi rimini? Guarda, 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 guarda. Vi bologna, infatti a Bologna non ci sono più boloni. Ok, ok ok Sì 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 Io poi sono un risetto Sì Cos'è? Con la bemolle. Cos'è? Così, no? Cos'è? 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 Cos'è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.